Alessandro Basciano ha chiesto diritto di replica a Silvia Toffanina Verissimo. La sua storia tocca corde profonde, e non si può fare a meno di essere catturati dall'intensità di questa vicenda. Vi state chiedendo cosa lo abbia portato qui? Ecco la domanda che svelerà tutto, sto male. Ho perso 9 chili in due mesi. Benvenuti su Gossip Secrets, il tuo canale di notizie sul gossip e i reality show. Alessandro Basciano ha attraversato un vortice di emozioni e sfide. A seguito delle dichiarazioni scioccanti della madre di sua figlia, Sofì Codegoni. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. Ha chiesto il diritto di replica, ed è arrivato il momento di ascoltarlo. La padrona di casa, Silvia Toffanin, gli ha dato la possibilità di raccontare la sua verità. E ciò che segue è un viaggio nell'anima e nella mente di un uomo alle prese con una tempesta emotiva. Iniziamo con le dichiarazioni di Alessandro. Sono teso. Ne risento molto anche fisicamente e psicologicamente. Non sono lucidissimo. È un assaggio delle emozioni travolgenti che lo hanno accompagnato durante l'intervista. Basciano affronta le accuse riguardo a un viaggio ad Ibiza con un'altra donna. Sono stato a Ibiza. Non ero a Pioltello. Sono andato per lavoro. Questa ragazza realmente esiste ed è stata invitata non da me ma da terze persone. Non è una mia ex, ma ho avuto a che fare con lei quando ero in Spagna, ha rivelato Basciano. Ma indirettamente conferma le bugie sull'identità della ragazza e le dinamiche ambigue che lo hanno coinvolto in aeroporto. È solo l'inizio di una serie di rivelazioni scioccanti, tra cui un cambio di identità e una villa misteriosa. La questione del parto di sua figlia è discussa approfonditamente. La Codegoni ha dichiarato di essere rimasta sola, ma Alessandro presenta una versione diversa. Ho preso una struttura privata con la sala parto, in cui poteva stare una persona alla volta, anche qui per Basciano non è colpa sua, ma vittima di circostanze create per screditarlo agli occhi di Sofi. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. Nel suo racconto Basciano continua ponendosi come vittima di complotto architettato per far terminare la relazione con Sofi e in mezzo a questa vicenda, coinvolge una misteriosa cartomante e stregone. Basciano ha continuato alle prove della chat con la cartomante è tutto vero. La storia di Alessandro Basciano è un vortice di emozioni, da un amore struggente alla confusione più profonda a misteriose fattucchiere. Sono ancora innamorato. Sto male. Ho perso 9 chili in due mesi. Amo lei. Amo la mia bambina. Amo la mia cagnolina. Sto prendendo le gocce per dormire. Sto male. Forse Basciano ha bisogno anche lui se un consulto dalla cartomante. Forse gli svelerà il suo futuro in amore. Che dite scrivetelo nei commenti.